E' grande festa qui a Sarno per il Carnevale 2019, carri, bambini, gente felice che non vede l'ora di festeggiare la festa più pazza dell'anno. E il Carnevale arriva anche a Sarno e io sono contento di avere qui una cara amica di Radiobase Emozioni Movimento, Giudia Esposito, ciao! Buonasera! Allora, raccontaci questo bellissimo carro che abbiamo alle spalle. Allora, questo è un progetto che è nato in realtà da due anni. Noi siamo nati come una scuola di danza e abbiamo quindi sempre curato l'aspetto scenografico, quindi il corpo di ballo. Da due anni abbiamo deciso di metterci in gioco e di realizzarlo con le proprie mani. Quindi questo è il nostro secondo carro allegorico, il cui nome è il Magico Viaggio nell'Antico Egitto e abbiamo deciso di ispirarci all'Antico Egitto perché in realtà siamo sempre stati affascinati da questo mondo, da questa civiltà. Quanto ci vuole fare un carro di queste dimensioni? Un bel po', nel senso la maggior parte di noi, nel senso di noi comitati, iniziamo già verso settembre, lavorando tutte le sere, quindi nel momento in cui inizi a realizzare un carro allegorico non hai più pause. E poi a carnevale, se uno non si diverte in questa giornata, quando deve farlo? Assolutamente, anzi, il carnevale prima di tutto è per i bambini, quindi il nostro sogno era questo, quello di realizzare un nostro carro e di rallegrare con i nostri ballerini. E allora, buon carnevale a tutti, anche qui a Sarno. E siamo arrivati a Striano per assistere alla nuova edizione del Carnevale Strianese, sempre più bello, organizzato da Nando Prospero. Buonasera, innanzitutto. Il carnevale sta procedendo bene, fortunatamente. Fino adesso gli ingressi, rispetto alla stessa giornata dell'anno scorso, sono già raddoppiati e quindi si prevede un grandissimo carnevale, quest'anno ancora più grande di quello dell'anno scorso. Ovviamente dobbiamo anche fare un doveroso ringraziamento all'assessore Rosarega che ha permesso tutto questo. Però comunque questa è una manifestazione importante che tutti noi aspettiamo, i paesi limitrofi, tant'è vero che il nostro carnevale è uno dei carnevali più importanti a livello regionale. È una festa che è importante e tutti noi aspettiamo con ansia. È un evento ormai diventato anche culturalmente importante. Ovviamente ai nostri microfoni non poteva mancare il sindaco architetto Aristide Rendina. Sindaco, cosa ne pensa ormai di questo evento consueto come il Carnevale che si sta allargando sempre di più? Niente, oramai è una manifestazione consolidata sul nostro territorio, è la 36esma edizione. Ogni anno che passa è un anno migliore per quanto riguarda la competitività dei carri allegorici. È una festa per tutto il territorio e per tutto il paese, per cui noi per quanto è possibile diamo il nostro contributo, sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista economico. La festa è una festa che piace e la dimostrazione e la partecipazione dei cittadini non solo locali ma anche dei comuni vicinori. Quest'anno fra l'altro siamo riusciti anche ad ottenere un contributo da parte della Regione Campania che è un ulteriore riconoscimento alla validità e alla competitività di questo Carnevale che noi speriamo che possa continuare nel corso degli anni e che possa migliorarsi sempre di più. Grazie a tutti.